Biancheri, sempre vicinissimo alle vicine della Sanremese di Renato Bersano, intanto le chiedo un parere su questa campagna acquisti perché la squadra si è rinforzata con giocatori di categoria anche superiore, quindi le premesse ci sono? Beh, assolutamente sì, si è già visto anche a Savona, voglio dire, la prima partita con l'Italia, l'ottima prestazione della Sanremese io non conosco nello specifico gli acquisti del presidente Bersano ma sicuramente mi giunge voce che sia veramente una squadra forte e veramente porterà il nome di Sanremo con una nuova maglia, un'occasione importante per tutti E a proposito di maglia, se può anche gentilmente mostrarla, la maglia che gli hanno regalato proprio dalla società per la quale hai raccontato anche un aneddoto particolare riguardo al numero uno poi? Ma sì, in realtà è una storia più obilità, ho giocato nell'ospedaletti in realtà come numero 12 per un breve periodo e allora ho dato un aneddoto che la prima partita che avevamo giocato contro l'Andorra, che il primo portiere si era infortunato avevo fatto una grandissima prestazione, ora tutti si congratulavano poi la seconda partita che abbiamo giocato in casa comunale, l'ho detto a tutti gli amici perché anche io ho gasato in questa ottima prestazione in realtà abbiamo perso 6 a 1 e poco dopo mi hanno ceduto Grazie